Ciao a tutti e bentornati in Tessiland News. Avete mai sognato di creare dei gioielli handmade che possano combinare l'eleganza e l'aspetto meraviglioso del metallo con la qualità e la morbidezza del 100% cotone? Lo avete fatto, vero? Beh, Tessiland ha la soluzione. Ma prima ricordatevi quanto segue. E' possibile quindi realizzare tutto questo grazie al Tessilux, un prodotto di altissima qualità perfetto per realizzare creazioni raffinate ed eleganti. Adesso però analizziamolo nel dettaglio. Ed eccolo qui, il Tessilux, questo meraviglioso filato con un diametro da un millimetro disponibile in questi pratici roll da 10 metri. Analizziamolo però, questo filato davvero straordinario. Parliamo di un filato in 100% cotone, dall'aspetto però metallico e realizzato con una tecnica a spiralino. Cosa significa? Significa che all'interno tutti i fili sono perfettamente legati tra loro e che quindi anche durante la lavorazione o quando indosserete la creazione questi fili non si divideranno. Non c'è alcun rischio che ciò possa accadere. Potrete tranquillamente utilizzarlo anche con l'uncinetto 1,75-2 ma ovviamente il tutto varia anche a seconda della mano e anche dalla creazione che vorrete realizzare. E' disponibile, come abbiamo detto, in questi pratici roll che hanno poi qui anche la possibilità di fissare il filato. Davvero molto morbido al tatto e l'effetto visivo. Anche semplicemente qui dai roll ma immaginate insomma poi la creazione è davvero impressionante. Disponibile in tantissime varianti di colore. Analizziamo nel dettaglio quali sono perché possono sembrare molto simili tra loro eppure la differenza credetemi c'è. Ma vediamola. La variante di colore che abbiamo analizzato nel dettaglio finora è questa. Rosa antico CL134. Questa invece è la variante cipolla CL21. Questa invece è Ceruleo CL125. E questo invece è il classico verde CL49. Il rosa aureo CL225. Il platino CL218. Il bronzo rosato CL213. E infine il rose gold che è il CL214. L'ottone albino L186. L'ottone avorio CL215. L'ottone champagne CL185. E l'ottone damasco CL210. L'oro albino che è l'L143. L'oro avorio che è il CL257. L'oro champagne che è G42. E infine l'oro damasco che è 4078. E concludiamo con le ultime quattro varianti di colore. CJ1026 ebano dorato. Un intreccio di nero e oro davvero per un risultato unico. Lino CL77. Argento SL01. E infine bronzo CL54. Il Tessilux è un filato davvero unico. Grazie alla sua tecnica di filatura spiralino. Che quindi vi consente di far sì che i fili restino tutti perfettamente intatti. e legati tra loro. E poi la morbidezza e l'effetto visivo simile ad una catena metallica. Lo rendono perfetto per realizzare bijoux che non passino in osservati. Un filato oltretutto adatto davvero per qualsiasi tipologia di esperienza. Più o meno alta voi abbiate. E' questo perché è davvero molto semplice maneggiarlo. Ha una giusta resistenza. E' possibile utilizzarlo con un scinetto 1,75 2. Quindi neanche poi così piccolo. E vi consentirà quindi di realizzare dei bijoux che possono essere un'opera d'arte davvero ad effetto. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito. Vi ricordo di seguirci su tutti gli altri social. Pinterest, Instagram, TikTok e Facebook. E noi ci vediamo al prossimo articolo. Ciao! Ciao! Ciao!